Ma le problematiche ovviamente cambiano così come cambia il mercato. Abbiamo sempre il problema della telefonia, ma anche dove le offerte a volte sono davvero intrasparenti. Abbiamo anche il problema del mercato finanziario, con prodotti finanziari spesso poco comprensibili, dove necessitano ovviamente di una spiegazione, di una maggiore trasparenza e per questo il centro tutela con consumatori cerca sempre di essere aggiornato e di aggiornare ovviamente anche l'informazione che dà.